L'ospedale San Carlo di Potenza e l'istituto Regina Elena di Roma collaborano da un anno nel settore della chirurgia urologica, in particolare nell'utilizzo della robotica per l'asportazione dei tumori. L'accordo prevede per i medici lucani l'aggiornamento nel Regina Elena, coordinati da un comitato scientifico presieduto da lucano Michele Gallucci, primario dell'istituto, in Basilicata per illustrare le nuove tecniche. Un accordo low cost, il primario Gallucci è infatti rinunciato al compenso per la collaborazione che consente al San Carlo di crescere per le linee interne acquisendo tecnologie e pratiche cliniche all'avanguardia internazionale. Ed è un accordo tra soggetti di pari dignità perché l'istituto tumori di Roma ha riconosciuto all'urologia dell'ospedale Potentino quegli standard di eccellenza che sono requisiti essenziali per una collaborazione di alto profilo. Stamane al San Carlo una conferenza stampa per tracciare un primo bilancio dell'accordo stipulato un anno fa. Un anno fa di questi tempi, proprio qui, noi presentavamo l'accordo di collaborazione con la regina Elena e in particolare con il professor Gallucci che molti conoscono essendo il nostro conterraneo che oggi è uno dei più apprezzati chirurghi al mondo in ambito urologico. In un anno abbiamo sviluppato con il professor Gallucci, con la sua equip, un lavoro splendido di collaborazione secondo le intenzioni. Il professor Gallucci e i suoi sono venuti spesso qui da noi, ci sono state molte sedute chirurgiche insieme, la nostra equip retta dalla dottoressa Vita è andata a Regina Elena più volte e insieme, come era nelle intenzioni, abbiamo cominciato a sviluppare il progetto della chirurgia robotica perché abbiamo ritenuto un anno fa che fosse giusto che un'azienda come San Carlo, un'azienda regionale, si dotasse della chirurgia robotica. La chirurgia robotica oggi è lo stato dell'aste in molti ambiti chirurgici, non solo urologici, ma anche in altri ambiti come la ginecologia, lo torino, la cardiochirurgia, la chirurgia generale, insomma quindi è uno strumento molto versatile. In un anno noi abbiamo acquisito questa tecnologia e oggi siamo qui anche perché mentre noi parliamo il professor Gallucci e i suoi e la nostra equip stanno operando con il Da Vinci, quindi il Da Vinci da essere un progetto in un anno è diventata una realtà operante. Peraltro noi contiamo già in questo mese di avere una seconda seduta robotica, abbiamo dedicato proprio una sala chirurgica al robot e questa seconda seduta sarà, io spero, multidisciplinare, nel senso che opereranno anche in altre branche chirurgiche. Quindi parte una pagina nuova del San Carlo, io ritengo anche della Sanità Lucana, è una pagina entusiasmante perché il San Carlo punta sulla innovazione tecnologica, punta sullo sviluppo per servire meglio i Lucani ma anche per guardare all'attrattività di territori che sono intorno alla Basilicata.